Al Parco Nazionale della Sibaritade viene presentato un progetto, di che cosa si tratta? Si tratta di un'azione di valorizzazione integrata fatta in collaborazione tra il Parco archeologico di Sibari e il Consorzio di tutela dei vini d'Opterre di Cosenza per la conoscenza e la promozione delle produzioni locali enologiche, quindi i vini d'Opterre di Cosenza, nella loro dimensione storica. E dunque abbiamo curato un'iniziativa articolatissima in cui qui al Museo Nazionale archeologico della Sibaritide c'è un piccolo percorso illustrativo con dei reperti bellissimi che abbiamo tirato fuori dai magazzini appositamente per questa iniziativa, tutti collegati al vino. Nell'ultima settimana del mese avverranno delle degustazioni, delle lezioni di enologia per conoscere i vini e apprezzare i vini, tutto gratuito e inserito nel costo del biglietto, tutto su prenotazione naturalmente, mentre nel mese di settembre saremo noi a portare dei reperti in vigna, nelle vigne dei produttori di Terre di Cosenza dove ci saranno delle viste guidate in vigna e alle cantine, dei concerti jazz e anche una piccola chiacchierata d'archeologia intorno ai reperti sempre collegati al vino che porteremo noi. Un'iniziativa molto articolata e pensiamo molto interessante. Al Museo Nazionale della Sibaritide c'è la presentazione di Eno, vini in ea Sibari. Io credo che sia il giusto mix fra il prodotto territorio. Qui abbiamo una grandissima ricchezza, il parco archeologico di Sibari con la civiltà sibarita che si racconta fosse grande consumatrice di vino. e il vino attuale, il vino moderno del Consorzio Terre di Cosenza che è un'altra eccellenza e quindi c'è la combinazione fra il prodotto territorio e il prodotto del territorio. Un'iniziativa molto importante per valorizzare il territorio culturale e anche il gastronomio. Un'iniziativa importante che noi sosteniamo come Regione Calabria attraverso i fondi della misura 3.2 che sono i fondi della promozione e che mira a fare consapevolezza consapevolezza di quanto siano straordinari i prodotti del territorio, in questo caso il vino e di quanto sia straordinario un territorio del quale dobbiamo impadronirci vale a dire le ricchezze di un territorio che ha un vestigio della storia di una storia che dovremmo conoscere, della quale impadronirci perché dovremmo forse cercare un po' di riprenderne i fasti.